Una complessa rete commerciale sommersa mascherata affinché sembrasse legittima con ponti tra il Triveneto, l'Europa Centrale e la Cina basata sulla vendita illegale di rifiuti ferrosi. E' ciò che ha scoperto la Guardia di Finanza di Pordenone con l'operazione Via della Seta su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e che riguarda anche la provincia di Belluno con quattro indagati e un'azienda finita nel mirino delle Fiamme Gialle per fatture inesistenti. Punto di partenza, le acciaierie non possono acquistare materiali ferrosi privi di dichiarazioni di conformità che ne certifichi provenienza e qualità. Se il materiale non ce l'ha è un rifiuto ferroso. Nel quadro ricostruito dalla Guardia di Finanza ci sono dei venditori di rifiuti a nero che dal 2013 a oggi cedono alle aziende della filiera del ferro ingenti quantità di scarti di produzione con transazioni in contante. Le aziende poi li rivendono alle acciaierie con la dichiarazione di conformità e bonifici tracciabilissimi. Ma da dove spuntano i certificati? Da una serie di intermediari e bellunesi rientrano in questa categoria che li ottengono da società esistenti solo formalmente in Repubblica Ceca Slovenia e che sono sempre di loro proprietà da cui acquistano per finta il materiale che in realtà è sempre stato in Italia. Pagano con bonifico che accompagna anche in questo caso il certificato. Le aziende della filiera del ferro acquistano sempre per finta il materiale dagli intermediari e pagano fatture tracciabili. A questo punto il materiale è stato venduto in maniera apparentemente regolare alle acciaierie ma c'è un problema da risolvere. Le aziende di filiera hanno pagato la finta fattura e devono avere indietro i soldi. Gli intermediari quei soldi li hanno all'estero e devono farli rientrare in qualche modo. E qui spunta la comunità cinese che in Italia ha una serie di attività in nero, molti contanti in tasca, e la difficoltà di trasferimento delle somme nei conti cinesi. Così le aziende cieche e slovene fingono di acquistare il materiale dalla Cina e con i bonifici fanno arrivare i soldi lì, mentre gli intermediari ricevono dai cinesi grosse buste di contanti in Italia. In questo modo sotto una patina di tracciabilità e regolarità si nascondono flussi enormi di denaro illecito, 150 milioni depositati in Cina e 308 milioni di fatture false. Inoltre nelle acciaierie sono finite almeno 150.000 tonnellate di materiali di dubbia provenienza corrispondenti a 7.000 autoarticolati. A capo della rete 5 veneti ma gli indagati sono oltre 60. Il valore delle false fatture emesse dalla società intermediaria bellunese messa sotto sequestro è di poco meno di 2 milioni.